Il Falco è il nome di battaglia dell'autore, ufficiale dell'esercito italiano ora a riposo, che ha prestato servizio con le forze multinazionali in molti teatri di guerra contemporanei. Good Morning Kabul è il primo di una serie di racconti di guerra, frutto della fantasia dell'autore, ma ispirate alla realtà da lui vissuta in prima persona in tanti anni di missioni e combattimenti. Il Falco ha deciso di restare anonimo per ragioni di sicurezza. Good Morning Kabul è il primo volume di Guerra, la collana che Mazzanti Libri dedica ai racconti militari. Ai libri della collana Guerra sono dedicate specifiche pagine Facebook gestite direttamente dal Falco, nelle quali i lettori possono interagire direttamente con l'autore.